2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 13 14 14 14 r space 對對 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 si è sparito si lo so lo sai perché ti sta a destra no no mica l'ho visto che stai a dire eh lo laggiù eh lo laggiù la faccia tua corri perché solo a me mi appare nel tuo nella tua parte mi appare che ti sta di fronte eh lo so mi sto scappando con un coglione si accorge tu dove stai? sei morto sei morto? si perché stavamo fermi mi sono girato un attimo me lo sono ritrovato di fronte che bello rinizia posso ah ah rinizia posso devi morire per favore e io faccio allora aspetta ragazzi andiamo a trovare il nostro lupetto eh fail di inizio video oddio ho trovato il che cazzo ne so sta al sinistra lupetto comunque non per ti signare ciao frasi 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 perchè non riesce a correre questo è brutto no sto fermo io mi divertimi perché non mi resta ammattata ciao 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 il mio posto io posso prendere ho visto una pagina lontananza corriamo prima pagina ragazzi vediamo se c'è se c'è quel frascio no un aereo ragazzi ma non posso saltare eh bug guarda che bug a me vale più un un po' che un aereo da qui guarda che bug allora andiamo su quei cazzo di cosi lunghi che vedi gli stagli si ragazzi c'è la voce della martedì l'albero no 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 barbero eh di suddisoni l'hanno fatti male sarebbero degli alberi un po' troppo grossi ma leggermente textural carri ma vediamo che cazzo vediamo se troviamo una paginetta vabbè oh ecco il culo mi sono girato il 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 No mi fa schifo ragazzi Comunque da campione 96 è tutto Da Fapp pure E io Bella ragazzi